Non voglio togliere il motivo di divertimento al consigliere Pellicini, se poi la... scusate, non voglio togliere il motivo di divertimento al consigliere e comunque la invito ad analizzare tutti gli altri perché saremmo contenti di confrontarci sui fatti. Sono tre brevissime annotazioni e non voglio farle una lezione di ragioneria, però si fidi, se non recitiamo i principi contabili, potrei intrattenervi a lungo, sulla differenza tra un accantonamento per scrittuturi e un accantonamento a fronte di costi del personale. E si fidi quando le viene detto che anche in dottrina c'erano gli estremi per sostenere quanto ha detto Sergio Bozzonello. Se vuole le cito tutti i principi contabili, le cito tutta la dottrina, ma l'avvento. Dai principi contabili, mi scusi, consigliere Pellicini risulta fastidioso. Consigliere Pellicini risulta fastidioso. Faccia finire l'intervento l'assessore, per protesia. Consigliere Pellicini, faccia finire l'assessore. Consigliere Pellicini. Lungi da me l'idea di fare lezioni, perché per fare lezioni ci vuole qualcuno che insegna e qualcuno che ascolta. Mi pare che uno dei due manchi. In ogni caso, sulle poste di bilancio le ho già detto, per quanto riguarda il tema della responsabilità, solo brevemente, sono molto orgogliosa di far parte di un'amministrazione e direi anche di un consiglio comunale, salvare eccezioni, che ritiene diversa l'essere in sintonia fra invece ricattare. Le posso garantire, posso garantire a tutti, che la scelta dei dirigenti, ammesso quelli che non hanno vinto concorso, perché vi vorrei far presente che ci sono anche carriere professionali che vengono attraverso concorsi dove l'amministrazione non ha poteri, quando noi scegliamo comunque i professionisti esterni o il sindaco identifica dei professionisti, lì si sceglie in base alla loro competenza e autonomia di giudizio, che ci porta anche ad avere una diarriba dialettica, voluta dalla legge che già dagli anni 90 ha separato la linea tecnica dalla linea politica. E noi su questa separatenza ci muoviamo. Per noi, e ribadisco, autonomia e indipendenza non significa distanza, significa che condiviso un progetto politico, noi rispettiamo le autonome idee basate su professionalità di tutti i nostri collaboratori e mai e poi mai utilizzeremo il ricatto come strumento di ricatto, se non fai come dico io ti sposto, non ti promuovo, te ne accorgi col bonus a fine anno, mai e poi mai utilizzeremo il ricatto per obbligare questi professionisti che abbiamo scelto in quanto capaci di autonomia nei nostri confronti e capaci quindi di sostenerci, mai e poi mai utilizzeremo questo. Infine chiudo, la responsabilità significa sicuramente che alla fine la colpa del sindaco anche se piove, e siamo qui a portare dei libri, a portare altri amministrativi. Non ci sottraiamo a questo, però attenzione, responsabilità significa anche farsi carico, tant'è che accogliendoli in un bilancio ce ne facciamo carico, anche di errori, di situazioni condivise della quale non abbiamo agito al 100% in autonomia. Questa è la responsabilità, non intenderla come scarica barile, questa non è una cosa che abbiamo mai fatto.